E torniamo ora alla massiccia mobilitazione della Lega Nord nello scorso fine settimana. Mille gazebi nella sola Lombardia per dire no all'introduzione dello Iussoli e all'eliminazione del reato di clandestinità. A Ponteranica, in provincia di Bergamo, abbiamo intervistato anche il senatore consiglio annunziante, il segretario provinciale della Lega Bergamasca, Cristian Invernizzi, e a fare gli onori di casa il sindaco di Ponteranica, Cristiano Aldegani. Ascoltiamoli. Senatore annunziante consiglio, oggi la dimostrazione che la Lega, come sempre, è vicina ai cittadini, è vicino al sentore dei cittadini, una raccolta firme che sta avendo molto successo. Direi proprio che in questi giorni l'organizzazione Lega si è mosso in un modo fantastico ed è stata capace di abbracciare quel sentimento del Nord come probabilmente negli ultimi periodi non siamo riusciti. Un po' l'intelligenza dei nostri capi e quindi la cosa diventa semplice per loro innescare dei meccanismi per noi militanti. Però ci ha messo anche qualcosa il nuovo ministro all'integrazione che ha creato uno scombussolamento incredibile sotto l'aspetto proprio della capacità di noi del Nord di dover digerire lo ussoli, cosa che nelle priorità probabilmente di questo governo e di questo Paese non se ne sentiva assolutamente bisogno e anche per il fatto che crediamo che a prescindere da tutta questa crisi economica che c'è, c'è forse qualcos'altro da poter innescare come meccanismo. Se si parla poi della Bossi Fini per abrogarla, volirla, noi pensiamo che addirittura forse sarebbe il caso di incrementarla un po' sotto l'aspetto delle restrizioni perché quello che sta succedendo in Italia soprattutto ma in Europa in generale credo che vada proprio verso opposto a quello che il nuovo ministro si immagina. Cristiano Invernizzi, qui siamo in provincia di Bergamo, una provincia che lei conosce così bene e una provincia che ha risposto a questa raccolta firme. Sì, è stata una raccolta firme che è andata molto bene, diciamo che già ieri con i primi gazebi insediati all'interno dei vari comuni bergamaschi abbiamo visto una risposta veramente molto entusiasta da parte delle persone di Bergamo, segnale che i temi che sono sostanzialmente poi proprio nostri cioè quelli che riguardano la difesa dalle nostre comunità sono ancora molto sentite dalle nostre persone, segnale soprattutto che le persone hanno ancora voglia di Lega quando la Lega fa politica e torna quindi nelle piazze a portare avanti quelle che sono le nostre principali stanze di difesa del nostro territorio e soprattutto penso che questo sia un bel segnale anche per il governo appena insediato, un governo al quale noi non abbiamo dato la fiducia ma abbiamo dato diciamo una stensione così di incoraggiamento ma che nel primo mese dal suo insediamento probabilmente ha fatto cose che non interessano particolarmente. Ci auguriamo che quindi la risposta dalla gente soprattutto a istanze quali lo Iusoli o una rivisitazione della legge sulla cittadinanza possono essere capite da Roma non è questo che vogliamo dal nuovo governo, vogliamo risposte sull'economia. E siamo qui con il sindaco, questo è uno dei gazebi, dei tanti gazebi in tutta la Lombardia in tutto il nord Italia che sta avendo un successo, quasi ne ho aspettato. Sì direi proprio di sì, abbiamo fatto il gazebo ieri nell'area mercato e stamattina qua nella zona del Ponteranica Alta. Avete portato anche il sole e telepadaglia quindi vi ringraziamo anche per quello. Darei un'alta altissima affluenza, non ce l'aspettavamo anche noi, anche di persone non leghiste che sono venute volentieri a combattere con noi questa battaglia. Ecco qui siamo a Ponteranica ma il discorso è simile un po' dappertutto. La gente è sensibile a questo tema, viene a firmare e cosa chiede? Ma chiede innanzitutto sicurezza, tanta gente non ce la fa più. Gli ultimi dati di settimana scorsa solo in provincia di Bergamo abbiamo speso quasi 15 milioni di euro per curare i clandestini e le strutture sanitarie. Questo non è più possibile.